Salve a tutti e bentornati su Jazz Conventional TV. Apriamo il nuovo numero del nostro settimanale segnalando un appuntamento dal vivo. Stefano Barbati e Fabio Ciminiera portano Acoustic Ladyland, il reading dedicato alla figure e ai brani di Jimi Hendrix al Cueva Brigante di Chetty. Le vicende e le storie più significative della sua carriera si intersecano con le versioni acustiche dei capolavori più celebri del grande chitarrista. Lo spazio scelti per voi questa settimana vede il protagonista il quartetto formato da Paul McCandle, Ralph Towner, Glenn Moore e Mark Walker, ovvero gli Oregon, con il loro recente disco Family Tree. Tra gli articoli pubblicati vi segnaliamo quello relativo al concerto tenuto da Gregory Porter con il suo gruppo Liquid Spirit al Parco della Musica di Roma, che è stato seguito per Jazz Convention da Luca Labbrini. Le tre recensioni presenti in home page sono Lingue di fuoco del duo Blastula, formato da Monica Demuro e Cristiano Calcagnile, Arborescence, il disco Il piano solo di Aaron Parks e di Acadia Session di Giupi Paone. Come di consueto vi invitiamo a seguirci su www.jazzconvention.net e sulle nostre pagine dei principali social network per scoprire gli aggiornamenti sempre presenti sul sito, così come le notizie relative ai concerti presenti nell'agenda e nei comunicati. Intanto vi saluto e vi aspetto la settimana prossima sempre su Jazz Convention on TV. Grazie. Grazie.